Il candidato sindaco Cannavò invoca le primarie per scegliere un candidato unitario. Sisma a Santo Stefano, nuova ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione Scalia per gli immobili danneggiati. Arresti domiciliari a bel passo per il titolare di un'azienda agricola per il reato di sfruttamento del lavoro e mancata sicurezza sui luoghi di lavoro. L'informazione di Tg Reporter News, benvenuti a questo nuovo appuntamento. In apertura riflettori puntati sulle prossime elezioni amministrative in programma da Cireale. Il candidato sindaco Gianluca Cannavò invoca le primarie nel centrodestra. Il centrodestra cese nel caos siano gli elettori a scegliere il candidato sindaco. E questa la proposta lanciata questa mattina dal candidato sindaco Gianluca Cannavò nel corso dell'annunciata conferenza stampa indetta nella sede di piazza Garibaldi ad Acireale. Io credo che sia l'unica soluzione per uscire fuori da queste impasse. Lo dico io da più giovane perché è chiaro che dobbiamo dire le cose come stanno e quali sono i nomi in campo che tutti cercano di essere candidati. Allora, i nomi sono l'avvocato Nino Garozzo che ricerca la candidatura, il dottor Nino Nicotra che ha espresso la candidatura con i comunicati stampa, il geometra Messina che ha dato la sua disponibilità e già comunque nel tavolo provinciale, il dottor Enzo Carbonaro che ha il desiderio di candidarsi al sindaco, la preside Maria Castiglione che se ne parla da mesi e credo che abbia la voglia di candidarsi al sindaco. Io dico a tutti questi attori scendete in campo, dichiaratevi, dite la vostra e magari qualcuno non ha gli strumenti, vero io gli strumenti. Gli strumenti sono le primarie, le primarie che è uno strumento democratico che Fratelli d'Italia ha sposato a livello nazionale, che è quello che si possono fare il 19 marzo. Chi dice che le primarie non si possono fare dice una bugia. O dall'altra parte ha paura. È successo un caso che ci ha aiutati. Lo spostamento dell'elezione al 28 e 29 maggio anziché 14 e 15. Utilizziamo questi 15 giorni per fare le primarie. Secondo Gianluca Cannavo è dunque questa l'unica strada percorribile per rappresentare un'alternativa valida da contrapporre agli avversari. Cannavo indica la data del 19 marzo per svolgere le primarie e un appello in questa direzione viene lanciato al tavolo provinciale che si riunirà lunedì prossimo a Catania per trovare la quadra su un candidato unitario che possa ricompattare il centrodestra al momento diviso. Cannavo infine si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Sono sceso in campo perché voglio amministrare questa città. Qualcuno mi dice che non posso fare sindaco perché sono figlio di Macellaio e perché vengo da Piazzaranti. Io sono onorato di essere figlio di Macellaio e di essere di Piazzaranti. Sono un uomo del popolo e dimostrerò e ho dimostrato che non mi tiro indietro. Da nove mesi parlo con le persone e ho il programma pronto. Sono disponibile a non candidarmi ma non a ritirarmi. Io vado avanti e non ho problemi. Io ci sono. Contatterò tutti immediatamente perché voglio ispitare tutti alle primarie e decidere entro dieci giorni chi è il candidato sindaco di questa parte e di quale sono. Ora invito tutti ad accettare questa figlia. E Gianluca Cannavo come è sentito infiamma il dibattito politico cittadino e stasera gran dibattito anche a città città. Torna infatti il nostro rotocalco settimanale di attualità condotto dal nostro direttore Antonio Garozzo con i commenti dell'avvocato Enzo Di Mauro. La prima puntata si occuperà di politica. I partiti sono alla ricerca di accordi e alleanze ma la strada è ancora lunga e soprattutto il centrodestra accese si presenta al momento diviso. Il tema della prima puntata si occuperà proprio di questo. Elezioni alla ricerca dell'unità perduta. Ospiti diversi esponenti politici dal coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Alberto Cardillo al segretario provinciale di Prima l'Italia Fabio Cantarella. Dal coordinatore provinciale dell'MPA Pippo Reina al presidente del consiglio comunale 10 Reale in rappresentanza del Movimento 5 Stelle Fabio Fontanesca. Collegamenti con il coordinatore provinciale del PD Maria Grazia Leone e di Forza Italia Marco Falcone. Saremo in onda dalle ore 21 e 25 con il tema elezioni alla ricerca dell'unità perduta. Prevista anche la partecipazione del pubblico con i messaggi e le domande da casa. E si voterà anche a Biancavilla, Belpasso e Maletto, città dove i partiti sono ancora alle prese con accordi e alleanze. Sentiamo il servizio di Videostar. I prossimi 28 e 29 maggio si tornerà a votare pure all'ombra del vulcano. Tra i 129 comuni interessati ci saranno Biancavilla e Belpasso in cui si vota con il sistema proporzionale possibile turno di ballottaggio l'11 e il 12 giugno. Turno unico invece a Maletto dove si voterà con il maggioritario. Le segreterie politiche locali e provinciali stanno ultimando accordi e alleanze in vista delle presentazioni delle liste ad aprile. A Maletto sarà sfida a tre, Giuseppe De Luca, sindaco uscente, Antonio Mazzeo e Arturo Avellina, tutti sostenuti da una lista civica. Non si esclude però una quarta candidatura. Così facendo sarà una delle prime volte per il Paese ad andare incontro ad una frammentazione dell'elettorato. Giochi fatti a Belpasso. Dopo il passo indietro del sindaco uscente Daniele Motta, che ha preferito non ricandidarsi, A contendersi la poltrona di primo cittadino saranno in tre l'ex presidente del Parco dell'Etna, Carlo Caputo, già sindaco della città tra il 2013 e il 2018, sostenuto da una parte del centrodestra, da Fratelli d'Italia al Movimento per l'Autonomia, l'ex presidente del Consiglio Comunale, Salvo Licandri, riferimento del vice presidente della regione, Luca San Martino, sostenuto dal Partito Democratico e da una parte di Forza Italia, espressione dell'ex sindaco e deputato regionale, Alfio Papale, l'ex segretario del PD cittadino, Giuseppe Lucio Piana, e il candidato del Movimento 5 Stelle. A Biancavilla tenderà la riconferma il sindaco uscente Antonio Bonanno, sostenuto dal centrodestra, a cominciare dal suo partito, Fratelli d'Italia, passando per il Movimento per l'Autonomia, Forza Italia, prima l'Italia, la nuova DC, ma anche la parte di azione che fa riferimento al senatore e sindaco di Bronte, Pino Firarello. Insomma, Bonanno andrà alle elezioni con lo stesso cartello elettorale del 2018, ambliato al gruppo San Martino, che cinque anni fa esprimeva una propria candidatura al sindaco. Dal fronte opposto, quello del campo progressista, se sulla carta l'alleanza PD e Movimento 5 Stelle sarebbe cosa fatta, non è scondato che il Movimento 5 Stelle presenti una propria lista, mentre il segretario regionale dei Democratici, Antoni Barbagallo, ha dato disposizione ai vertici locali del partito di cominciare a delineare la lista del PD e di aprire alla società civile. Un incontro tra Barbagallo e i vertici locali del partito, con in testa il segretario, Giuseppe Pappalardo, è previsto per fine settimana. La quadra sarebbe stata trovata attorno alla figura dell'avvocato Andrea Ingiulla, già assessore in passato e fondatore del movimento civico Biancavilla che vogliamo. Tre le liste che potrebbero andare a sostegno dell'avvocato Ingiulla. L'ufficialità dovrebbe arrivare nel giro di alcuni giorni, anche se non si escludono sorprese dell'ultimo minuto. E adesso capitolo sisma di Santo Stefano, firmata dal commissario straordinario per la ricostruzione Salvatore Scalia, l'ordinanza per la ricostruzione, con scadenza ultima il 24 luglio. Aveva annunciato i primi interventi dopo aver ricevuto la conferma a commissario straordinario per la ricostruzione e di fatti dopo due settimane circa, ecco la firma della prima ordinanza del 2023 con data 1 marzo. L'ordinanza alla quale faceva riferimento il commissario Scalia ha per oggetto il piano generale di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dalla sisma di quattro anni fa, con termine ultimo che non sarà più prorogato, fissato per il 24 luglio. L'ordinanza di 28 pagine può essere letta dettagliatamente sul sito commissario-sisma-arietnea.it dove sono elencati i criteri per poter ottenere il contributo. Possono presentarli i proprietari di prime e seconde case o i proprietari di immobili che ospitano imprese commerciali ricadenti all'interno delle mappe denominate zona di attenzione o zona di suscettibilità, riportando tra gli altri dati anagrafici completi del richiedente il contributo. I dati indicati nella scheda AEDES, l'ordinanza di inagibilità dell'edificio, la dichiarazione con la quale si attesti che questo non è oggetto di ordine di demolizione, che non vi sia alcuna estanza di sanatoria o che non abbia usufruito di altri contributi in precedenza. In caso contrario indicarne la provenienza. Il commissario straordinario Scalia raccomanda che la domanda sia completa anche della documentazione che indica il nome del professionista incaricato della progettazione dell'impresa affidataria dei lavori, che, come già specificato nell'ultima intervista, si è iscritta all'anagrafe antimafia degli esecutori. L'erogazione del contributo avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, con una prima rata di acconto pari al 30% e via via fino ad una quarta rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso. Coloro che ne beneficeranno potranno dunque riparare il danno, procedere con la demolizione e ricostruzione dell'immobile, procedere ad interventi di adeguamento energetico ed antincendio, eliminare la presenza di barriere architettoniche o altro in base alla tipologia. La struttura commissaria all'intanto sta procedendo anche all'analisi delle pratiche rimaste in sospeso nei comuni coinvolti dal sisma che sono l'85%. A breve sarà stipulato un nuovo accordo con Invitalia per disporre di altro personale al fine di sbloccare le pratiche in giocenza. E ieri il commissario Scaria ha firmato un decreto di finanziamento di 1.260.000 euro per la ricostruzione della caserma del corpo forestale a Zafferana. E in chiusura di prima parte un appuntamento con la politica. Si terrà oggi alle 17.30 all'Orizzonte Hotel l'incontro sul tema famiglia e lavoro, il ruolo strategico della democrazia cristiana nelle nuove autonomie locali. Introdurrà l'onorevole Giuseppe Basile, coordinatore delle politiche della democrazia cristiana per i paesi delle ACI. Interverranno anche l'onorevole Andrea Messina, assessore regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica, l'onorevole Nuccia Albano, assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro. Ed infine l'onorevole Francesco Donato, europarlamentare della democrazia cristiana. Concluderà il commissario regionale Totò Cuffaro. E adesso un primo stacco pubblicitario. A tra poco. Da venerdì 3 marzo, Città Città, il rotocalco settimanale di politica cittadina. Tutti i venerdì sera in prima serata alle 21.25 su Etna Channel. Il salotto della città. Città Città, condotto da Antonio Garozzo con i commenti di Enzo Di Mauro. Tutti i venerdì ore 21.25 su Etna Channel. Euronics Acireale. Quello che ti serve a portata di mano. Elettrodomestici, telefonia, informatica, tv e tanti altri prodotti tecnologici e all'avanguardia in un grande assortimento. Garanzia di un'assistenza qualificata per qualsiasi consiglio negli acquisti. La convenienza di offerte e promozioni continue. Euronics Acireale. Via Cristoforo Colombo 12. Direzione ingresso autostrade. Ex arredamenti Gallina. Ampio parcheggio riservato. Non ti far fare le scarpe dal primo che capita. Ulisse vai per le tue scarpe, ma se lo vuoi puoi affigliarti. Ulisse vai per le tue scelte, comodità per tutti i gusti. Ora da Ulisse. Calzature, abbigliamento casual e sportivo, valigie, accessori per tutta la famiglia. Ulisse. Via Lazzaretto. Svincolo Autostradale Acireale. Ulisse, vai! Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL. Autorizzato Renault e Dacia a Daci Reale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL. Autorizzato Renault e Dacia a Daci Reale. In via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Centro analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del Fadi ATM 250. Il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6 e 30 del mattino. Convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro analisi Murabito. Via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Seconda parte dedicata alla cronaca. A Belpasso arrestato un imprenditore agricolo per sfruttamento del lavoro. Sentiamo il servizio di Videostar. Su disposizione della procura distrettuale di Catania, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, insieme ai colleghi delle compagnie di Paternò e di Sciacca, hanno posto ai domiciliari, su disposizione del GIP del Tribunale Etneo, un imprenditore agricolo di Belpasso di 42 anni, titolare di un'azienda agricola, per il reato di sfruttamento del lavoro e per i reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in danno dei propri dipendenti. In concorso con un marocchino di 45 anni, da anni soggiornante a Paternò, quest'ultimo in qualità di vero e proprio caporale, intermediario fra il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti, previo pagamento di denaro per le pratiche di emersione di extracomunitari privi di permesso di soggiorno in Italia. Secondo l'accusa, l'imprenditore avrebbe impiegato quattro dipendenti stranieri di nazionalità marocchina, in condizioni di sfruttamento corrispondendo loro una retribuzione irrisoria pari a solo 35 euro giornaliere, di cui 5 euro in favore del caporale. Inoltre avrebbe costretto i lavoratori a svolgere turni di lavoro estenuanti, senza il riconoscimento di ferie, riposi settimanali ed indennità accessorie, e comunque in violazione di ogni regola in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro. L'indagine è scaturita dalla denuncia di un cittadino marocchino dipendente dell'imprenditore, sostenuto dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Fiamme gialle in azione a Messina. I finanziari del Comando Provinciale Peloritano hanno concluso un'articolata attività di indagine nei confronti di un'azienda agricola operante nel comune di Caronia, azienda beneficiaria di ingenti finanziamenti comunitari illegittimi per un ammontare di oltre 600 mila euro. Le indagini, condotte dalla tenenza delle fiamme gialle di Sant'Agata di Militello e coordinate dalla Procura Europea di Palermo, hanno portato alla luce un complesso sistema di frode di un imprenditore agricolo del posto, segnalato dall'autorità giudiziaria per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico. Articolati riscontri documentati hanno accertato come l'imprenditore agricolo avesse dichiarato il possesso di numerosi terreni agricoli concentrati nell'area del Parco De Nebrodi, ricorrendo a falsi contratti d'affitto o comodato, riportanti la firma di persone decedute, molti mesi prima della stipula. Il GIP del Tribunale di Patti ha emesso il provvedimento di sequestro di beni ai fini della confisca per un valore complessivo di 400.000 euro, nonché di 127 titoli di pagamento a GEA del valore complessivo di 16.000 euro. Vasta operazione e anticrimi della Polizia di Stato tra Sicilia e Calabria. Sono state eseguite nella notte 15 misure cautelari nei confronti di soggetti coinvolti in una rete di traffico di stupefacenti che si estendeva anche su Catania e Messina. Una vasta operazione della Polizia di Stato, che ha visto impegnati più di 100 operatori, ha portato nella notte all'esecuzione di 15 misure cautelari tra la Sicilia e la Calabria. L'azione investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, in collaborazione con gli agenti della squadra mobile della sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo di Messina e delle squadre mobili di Reggio Calabria e Catania, trae origine dagli approfondimenti svolti sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha riferito sui consolidati rapporti di collaborazione per l'acquisto di cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti dalla Calabria destinati a Messina e che potevano contare su due diversi canali di distribuzione in Calabria e uno a Catania. Cinque dei soggetti arrestati sono ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, gli altri 11 dispaccio. Le intercettazioni telefoniche, ambientali, le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza e i numerosi riscontri dell'attività di spaccio hanno portato alla luce una stratificata attività criminale operante nei rioni messinesi di Santa Lucia, sopra Contese e Camaro, divenuti centri di gestione di un imponente traffico di cocaina, marijuana e skunk destinati ad essere immessi sul mercato per un volume d'affari che, secondo quanto captato dagli investigatori della Polizia di Stato in una conversazione, superava gli 80.000 euro. A capo dell'associazione, tre messinesi di età compresa tra i 40 e i 51 anni. Ad un 55enne messinese sarebbero state affidate operazioni di spaccio sul territorio, mentre un 42enne, sempre del posto, svolgeva funzioni di stabile distributore sul mercato ed intermediario con i fornitori catanesi. La pervasività e la solidità economica del gruppo era già emersa in occasione dell'arresto in flagranza di reato di uno degli indagati odierni, poco prima di Natale 2021, quando venne arrestato con altri due soci in possesso di quattro panetti di cocaina per un ammontare complessivo di 4,5 kg e della cospicua somma di 70.000 euro in contanti. E la cosiddetta linea dei soldi è stata seguita dalle forze dell'ordine anche in occasione delle cessioni degli stupefacenti effettuate da un altro degli arrestati di origine calabrese che, sottoposto a controllo dopo essere sbarcato a Villa San Giovanni a seguito di uno dei consueti viaggi d'affari, era stato ritrovato in possesso di 105.000 euro in contanti ritirati dai compratori peloritani. Per custodie e la droga acquistata il gruppo si appoggiava ad un insospettabile 42enne messinese incensurato che conservava la droga da immettere sul mercato, anche egli raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare. Sulla scorta di un così ricco quadro indiziario il giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica verso il Tribunale di Messina ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere per 11 indagati e gli arresti domiciliari per quattro di essi. Omicidio AC Sant'Antonio. In attesa dell'interrogatorio dell'indagato si cerca ancora l'arma. Non volevo ucciderlo ma solo spaventarlo. Queste le prime parole di Antonino Cosentino, il 33enne indagato per l'omicidio di Francesco Ilardi avvenuto lunedì scorso ad AC Sant'Antonio. Il 33enne sentito dal PM Francesco Rio che conduce l'inchiesta avrebbe voluto indurre la vittima a pagare i debiti maturati col padre, ex socio della vittima e accessare le azioni di sleale concorrenza. Si riconferma così il movente che sarebbe da ricondurre a circostanze di natura economica. Nello specifico vi sarebbe un assegno di 12.000 euro non onorato e una concorrenza sleale finalizzata a sottrarre i migliori clienti, acquirenti di grosse partite di polli, tutte questioni che vanno verificate e che in ogni caso non giustificano in alcuna maniera l'azione cruenta di Cosentino. Fissato l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Marina Rizza toccherà al magistrato convalidare l'arresto di Antonino Cosentino in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato e detenzione di arma da sparo. Non si trova ancora l'arma del delitto, si tratterebbe di una calibro 38 con cui Cosentino ha sparato nonostante l'uomo abbia confessato di avere premuto il grilletto, indicato il luogo nel quale si è disfatto dell'arma. Una tesi che non convince i carabinieri che hanno ricostruito, grazie alle telecamere a circuito chiuso, presenti sul luogo del delitto e i magistrati titolari dell'indagine. E adesso un'ultima pausa pubblicitaria. A tra poco. Controlltech. Professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti. Riparazione e vendita accessori informatici. Risme di carta. Cartucce e toner originali ed eco compatibili a prezzi imbattibili. Da Controlltech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Controlltech. Elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Controlltech è a Daci Sant'Antonio in via Vittoria Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Hai cambiato auto? Sì, cambio quando voglio. L'utilitaria per la città, l'auto più grossa per i lunghi viaggi, quella elegante per le grandi occasioni. Hai vinto al Super Enalotto? No, ho scoperto la convenienza dell'autonoleggio Miami. Niente più bollo, niente assicurazioni, niente responsabilità. Con una piccola cifra giornaliera, senza carte di credito né cauzioni, vado, faccio benzina e torno. Chilometri illimitati. Autonoleggio Miami. Auto, furgoni, auto per cerimonia. Vieni a scegliere la tua nella nuova grande esposizione di Via Lazzaretto di fronte alla cittadella del Carnevale. Informati e prenotati allo 095 826 4155 o presso i nostri uffici in via Vittorio Emanuele II 41, Piazza Carmi. Chi. Allora, l'ultima nevicata è stata, noi siamo abituati alla nevicata, non lo eravamo più in questo modo consistente nell'ultimo periodo perché le variazioni climatiche, il cambiamento climatico come negli altri paesi lo soffriamo anche qua e quindi purtroppo ormai da diverso tempo mancano le copiose nevicate come negli anni 90 o inizi 2000, però devo dire che quest'anno in una sola notte ha fatto tantissima neve, dove era più bassa erano 90 centimetri. La difficoltà è stata che il giorno successivo non abbiamo potuto spallare la neve a causa dei venti forti. Su Etna Channel tutto in di Franco Perdighizzi, sabato e domenica ore 21 e 20, canale 199 in tutta la Sicilia. In apertura di terza parte, la Fogna ce l'ho aperto in alcuni complessi abitativi di riposto, il sopralluogo del deputato regionale Davide Vasta. Abitativi e attività commerciali. Si ripropone a distanza di mesi una problematica fortemente avvertita e denunciata ai nostri microfoni dai residenti di Via Vespri ed Etna a riposto. Da anni i cittadini convivono con liquami e odori maleodoranti a causa di un canale di scolo che si snoda tra i comuni di Giarre e Riposto. Una situazione fuori controllo con problemi quotidiani, avvertiti soprattutto nelle ore pomeridiani. Sono state tante le denunce mosse dai cittadini, ma nessun intervento finora posto fine al disagio, con rimpalli di responsabilità, ma nessuna azione concreta. A riaccendere i riflettori sulla problematica è il deputato regionale Davide Vasta, che dopo aver incontrato residenti e imprenditori della zona, ha effettuato un sopralluogo sul posto. Con il cattivo odore che c'è in quel punto, zona Via Vespri, Via Vespri e Via Etna, chiaramente è impensabile fare qualsiasi tipo di attività e anche viverci. I residenti si lamentano da oltre dieci anni, da quello che abbiamo saputo, con denunce fatte all'ASP, ai vari comuni, alla capitaneria. Queste sono informazioni ovviamente che abbiamo appreso dalle parole dei residenti, ma non si è mai smosso nulla. È stato fatto un sopralluogo, sempre da notizie apprese dai residenti, da parte dell'ASP, dove gli dicono no, è tutto a posto, è acqua piovana. Chiaramente non può essere acqua piovana, non piove da diversi giorni l'acqua e l'odore soprattutto, ma anche visibilmente si vedono escreventi umani, quindi è chiaro che sono scarici fognari. Io adesso farò chiaramente un'interrogazione all'assessorato all'ambiente, al Presidente della Regione e solleciterò l'ARPA a venire a verificare immediatamente questa situazione perché chiaramente il danno ambientale, oltre a quello per i residenti, è irreparabile ormai. Sul tema puntuale la pronta risposta del Sindaco Enzo Caragliano. Appare evidente che sulla vicenda, afferma il Sindaco Caragliano, la burocrazia abbia avuto la meglio. Diversi gli interventi in ultimo quello del Demanio, che risale allo scorso autunno, che purtroppo non ha sortito ad oggi gli effetti sperati, nonostante sia stata acclarata la responsabilità del Comune di Giarre. Ci siamo subito attivati, ricorda Caragliano, per chiarire la situazione relativa appunto allo scorrimento di liquami maleodoranti nel letto del torrente Caravelle. Una problematica sulla quale vi ho un lungo carteggio, dove emerge l'interessamento dell'autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, dell'Agenzia del Demanio della Regione Sicilia, ma alla fine la problematica resta in piedi, senza una soluzione positiva per i residenti. Uno sguardo ora ad alcune iniziative in programma nei prossimi giorni ad Acireale. Con l'ultimo appuntamento in programma domani si chiuderà il ciclo di incontri denominato itinerario Danunziano, fuori dai libri di scuola. Sentiamo. Gabriele Danunziano, come non studiato fino ad ora. Si chiude domani sera la triade di incontri dedicati all'avvate, ovvero alla poeta sacro del Novecento, promossi dall'Associazione Culturale KDM. Un itinerario Danunziano, fuori dai libri di scuola, che hanno puntato su diversi aspetti e che si sono svolti i primi due a dicembre e a gennaio. Tra gli argomenti sui quali ci si è soffermati le donne amate da Danunzio, tra le quali la principessa Maria Gravina Cruias, palermitana dalla quale nacquero Renata e Gabriele, una riconosciuta, l'altro no. Una relazione extraconiugale per i tempi non accettabile e di fatti condannata. Nell'incontro di domani invece si punterà sull'aspetto storico-politico vissuto da Danunzio, ovvero il periodo fascista. A parlarne del Danunzio soldato sarà la professoressa Donatella Sciacca. Recorreremo velocemente la sua partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, all'impresa di fiume, ma ci soffermeremo più che a raccontare i fatti di cui i libri ci hanno già detto tanto. Cercheremo di capire i meccanismi interni che poi hanno regolato le scelte dell'autore e inevitabilmente parleremo delle relazioni delicate tra Danunzio e il fascismo. L'incontro si svolgerà presso il Collegio Santo Noceto di Corso Umberto ad Ascireale con inizio alle 19. Insieme alla professoressa Sciacca sarà presente la giornalista Gabriella Puleo che ha svolto un lavoro di ricerca meticoloso su Danunzio rispolverando documenti accantonati. Adesso arriviamo praticamente alla fine e voglio ringraziare di cuore Antonio Castro, attore e regista, perché magistralmente ha dato voce a Gabriele Danunzio. Potremmo anche continuare su questa scia visto che il pubblico ha risposto così bene e quindi perché no, sicuramente ci penseremo sia con la professoressa Sciacca ma probabilmente anche con il regista Antonio Castro e quindi magari riproporre anche tra alcuni mesi, ovviamente in altri contesti, questo nostro itinerario che così tanto ci ha soddisfatti. Oggi pomeriggio invece alle ore 17.30 nella Sala Galatea del Palazzo di Città di Aicireale avrà luogo la presentazione del libro Scienza d'Amore, l'opera di Marilina Giacquinta inserita nella rassegna Pagine Barocco curata dalla scrittrice e giornalista Rita Caramma per conto dell'assessorato alla cultura retto dal dottor Fabio Manciagli. E sempre nell'ambito delle attività culturali promosse dall'Associazione Culturale Archimede, questo pomeriggio, sempre alle ore 17.30 nell'Aula Magna del Liceo Scientifico Archimede di Aicireale il geologo, il professor Domenico Bella, ex alunno, otterrà una conferenza dal titolo Caratteristiche sismo-tettoniche e pericolosità sismica nel medio-basso versante orientale. Domenica invece in programma all'area com di Aicireale mi difendo da me un minicorso gratuito di difesa personale femminile organizzato dall'Associazione Acese Fiori Ribelli. Mi difendo da me, questo è il nome dell'iniziativa in programma domenica dalle ore 9.30 fino alle ore 13 all'area com di Aicireale organizzata dall'Associazione Fiori Ribelli. Il minicorso gratuito di difesa personale femminile presentato stamane al Palazzo di Città di Aicireale vedrà la partecipazione degli istruttori Francesca De Pieri, Luana Sortino e Sebastiano Longo rispettivamente per le discipline di karate, kravmaga e Aikido. Mi difendo da me nasce dalla volontà da parte della nostra associazione di cui mi onoro di essere presidentessa Fiori Ribelli, un'associazione antiviolenza e nasce dall'esigenza di poter rendere più sicure le donne in una giornata appunto internazionale della donna dove si è visto la vittoria di tanti diritti politici, economici, individuali ma soprattutto ancora purtroppo si annoverano tante discriminazioni nel trattamento della donna quindi nasce per rendere più sicure noi donne poter essere anche più tranquille a passeggiare per strada purtroppo ancora ad oggi le città non sono sicure ma soprattutto la donna non è sicura. Una manifestazione accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale in vista dell'8 marzo, giornata in cui si celebra la festa della donna. Un'iniziativa sicuramente lodevole che noi abbiamo subito sposato con l'amministrazione anzi ringraziamo Fiori Ribelli per averla proposta è un'iniziativa che punta alla difesa della donna ma io penso che allo stesso tempo punta anche alla mente perché poter fare questi corsi da sicurezza, da autostima e questo fa sì che veramente le donne possano in qualche modo sentirsi più sicure nell'attraversare le nostre strade, nel vivere la nostra città. E adesso la pagina sportiva. Nella pallannuoto tempo di Coppa Italia per l'equipo Orizzonte che questa sera sarà impegnata nella gara valida per i quarti di finale di Coppa. La formazione catanese affronta in gara secca la Florenzia con fischio di inizio alle 19.30. Dopo aver ottenuto la qualificazione alla Final Four di Champions League le etne vogliono inseguire anche la vittoria della Coppa Italia. Un'ultima ora invece nel calcio Serie D ancora un turno casalingo lontano dalle mure amiche per la Cireale. La sfida a salvezza tra Cireale e Ragusa in programma domenica si giocherà infatti a Licata e a porte chiuse. Adesso uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Cielo in prevalenza nuvoloso con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature oscilleranno tra i 7 e i 14 gradi. Venti deboli, mare poco mosso. Si conclude qui questa edizione di TG Reporter News. Prossimo appuntamento stasera a partire dalle 19.40. Grazie per essere stati con noi. Grazie per aver guardato il video.